Ecco, perché ha accettato questo incarico peraltro a tempo, un mese? Accettare un incarico per un mese cosa significa? Significa prendersi la responsabilità di traghettare l'azienda da una situazione di provvisorietà che comunque c'era con degli incarichi di facente funzione verso, spero, un incarico definitivo che è un atto dovuto nei confronti della popolazione, nei confronti della regione, nel momento in cui è stato fatto un albo regionale, ovviamente. Quindi mi è stato chiesto di supportare l'azienda per un periodo limitato perché abbiamo delle attività importanti da portare avanti che non potevano subire delle interruzioni. Ma a questo punto, Marina Angeli, lei non si sente un po' l'agiello sacrificale di testa, no? Come dire, poi però mi devo togliere dalle scatole, in un certo senso. Oppure il mezzo che ha utilizzato il direttore generale per imporre ancora la sua decisione? Guardi, non mi sono posto in questi termini, assolutamente non mi sono posto in questi termini. Penso che sia, stiamo parlando di un'azienda pubblica, stiamo parlando di un'asl e quindi io penso che sia il dovere istituzionale di chiunque di noi, nel momento in cui viene chiamato a svolgere un incarico anche temporaneo di supporto, penso che sia un atto dovuto appunto darlo questo aiuto se ovviamente ci si sente in grado di portarlo avanti, di supportarlo. Lei non ha dubitato per non ci ha dovuto pensare, quantomeno non ha pensato, ma adesso chi me lo fa fare? Eh certo, questo è evidente, penso che chiunque avrebbe avuto questa reazione, tra l'altro è stata una cosa diciamo pensata in pochissime ore per l'appunto, visto gli eventi che ci sono stati, però ripeto, non più di tanto, nel senso che ho creduto, ho pensato che fosse un dovere portarla avanti questa cosa, perché ci credo fermamente nella necessità di trovare una stabilità per la nostra azienda. Ecco, come giudica l'operaio della dottoressa Cicogna? L'operato, l'operato, l'operato. Ma io penso che la dottoressa Cicogna abbia fatto, abbia svolto il suo compito, il suo dovere per quello che ne so io in maniera diciamo così, diciamo così tecnicamente puntuale, per cui io lo dico onestamente, poi ci sono delle dinamiche che sono tecniche, sono visibili, diciamo all'esterno e poi ci sono ovviamente delle dinamiche che invece non lo sono. Ma vi siete sentiti? Come l'ha presa questa cosa? No, no, io non ho sentito la dottoressa Cicogna, sono onesto, non ho sentito la dottoressa Cicogna. Io sono venuto ieri, peraltro, e sarà passato già qualche giorno, credo, da questa interruzione dell'attività della dottoressa Cicogna. Cosa le ha detto il direttore generale? Il direttore generale mi ha semplicemente invitato intanto ovviamente ad accettare questa mansione provvisoria. Nel frattempo, Maria. E quindi io semplicemente ho chiesto quali fossero le problematiche più impellenti da portare avanti, perché il tema fondamentale è questo, è stato sui contenuti, non è stato nelle modalità. A proposito dei contenuti, però, diciamolo chiaramente, c'è uno scontro politico sotto, ora, al di là delle cose che ci stanno da fare. Come si vive questa situazione? Quali sono le picche e lotte politiche? No, 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 io le dico in maniera molto onesta e sincera, questo è stato il primo punto essenziale su cui, credo, anche nei mesi scorsi ci siamo confrontati. Io credo che la sanità non debba essere, non possa essere momento di scontro, ed è stato questo il motivo per cui l'ho accettato l'incarico, l'ho accettato nella convinzione di poter essere una persona, diciamo, trasparente e trasversale rispetto a situazioni che non dovrebbero entrare in un asolo, specialmente in questo momento storico. Ecco, in tutto questo, nella sua decisione, ha giocato anche l'invito del sindaco Biondi, la spronata, le ha detto, insomma, di accettare? No, non è che lui, cioè, non è che mi ha invitato lui ad accettare, sono stato io che prima di accettare ho fatto, diciamo così, una sorta di, come dire, di check, una sorta di valutazione, ma mi creda assolutamente trasversale tra tutti. Trasversale utile, però e ponendo, componendo come posizione, diciamo così, più importante il fatto che appunto fosse una facente funzione, quindi una situazione ovviamente temporanea, perché non è il mio lavoro, ma soprattutto che sarebbe stata una posizione nell'interesse della collettività, nell'interesse della nostra comunità provinciale, di tutti gli ospedali, tutti, l'Aquila, Avezzano, Sulmona, Castello, Tagliacozzo, Pescine, ci tengo a dirlo questo, perché questo è un aspetto molto importante, visto che tra le varie problematiche che c'erano state, ci sono stati appunto conflitti legati proprio al territorio. Da ultimo, come giudica le critiche che sono state mosse al direttore generale, da diverse parti politiche, in un altro momento, ma magari non nel clou dell'emergenza, quella autunnale? Proprio perché lei mi dice di problematiche politiche, io sono onesto, non ci voglio entrare, perché sono sempre stato un tecnico del problema, questa è una situazione attuale, in cui, parlo sia del livello nazionale che il livello regionale, locale e quant'altro, in cui dovremmo focalizzarci tutti quanti ad aspetti che vanno veramente al di là della politica, perché abbiamo problemi seri, seri, seri da risolvere e quindi ci focalizzeremo su questi.